Che fa il sindaco? Prende provvedimenti? Assolutamente sì, anche se paradossalmente una persona così neanche lo meriterebbe. Dovrebbe essere veramente lasciato nell'ublio e nel nulla. Però deve smetterla, deve smetterla di infangare il nome della nostra città perché non è la prima volta. Quel posto, se lui ci sia stato frainteso, l'hanno capito tutti quello che voleva dire purtroppo, e quel posto è veramente schifoso. E' un posto schifoso perché in un momento come questo c'è stata tanta solidarietà trasversale, devo dire, da ogni parte d'Italia, oggi mi ha chiamato anche il Presidente della Repubblica, veramente da ogni parte. In un momento per la nostra città così drammatico, quel posto che abbiamo capito tutti, il senso che voleva dare a quel posto, è un posto schifoso. E' un posto schifoso e quindi come tutte le cose schifose devono essere cancellate, devono essere cancellate, e devono essere cancellate perché i veronesi, anche e soprattutto in questo momento, non meritano di essere trattati così, da un omuncolo. Penso che sia iscritto all'ordine dei giornalisti, se non sbaglio, perché dovrebbe scrivere su una testata, quindi probabilmente è iscritto all'ordine dei giornalisti. Su Repubblica. Sì, appunto, però ecco, insomma, queste cose, è ora di basta, ecco, è arrivata l'ora di basta. Chiaro, grazie.